Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio. Il settimanale di TVR e Tele Italia che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. In questo appuntamento siamo proprio all'interno del Palazzo del Pegaso. Vedete una scritta alle mie spalle, porta la firma di David Sassoli. Perché c'è stata un'inaugurazione molto importante proprio in Consiglio regionale, una sala dedicata a David Sassoli. Però andiamo subito per ordine, questi i titoli. E infatti il primo titolo è proprio il Media Center inaugurato a nome di David Sassoli. Parleremo anche del Consiglio regionale della Toscana che dopo l'inaugurazione del nuovo Media Center ha effettuato una plenaria con i presidenti delle commissioni per le politiche europee. Ebbene sono al tavolo nella sala dedicata a David Sassoli, al Media Center, il luogo in cui le idee di quello che è stato a tutti definito l'uomo del dialogo avranno il giusto spazio. La giusta collocazione tra manifesti, appesa alle mura, monitor, microfoni, postazioni. Questo amici lo vedete è il nuovo Media Center del Consiglio regionale della Toscana intitolato a David Sassoli. E' stato inaugurato venerdì 22 luglio al primo piano del Palazzo del Pegaso. David Maria Sassoli è nato a Firenze da Babbo Fiorentino e mamma pratese, giornalista professionista dal 1986, è stato vice direttore del Tg1, dal 2006 al 2009 eletto parlamentare europeo per tre mandati consecutivi. ha svolto proprio ruoli di campo delegazione del PD dal 2009 al 2014, vicepresidente del Parlamento europeo, infine presidente del Parlamento europeo dal 2019 fino al giorno, purtroppo, della sua morte avvenuta nel corso della nona legislatura l'11 gennaio del 2022. Il presidente Antonio Mazzeo aveva proposto all'ufficio di presidenza che il nuovo Media Center del Consiglio regionale fosse proprio intitolato a David Sassoli, proposta che è arrivata il 13 gennaio, mentre era allestita proprio la Camera Ardente in Campidoglio e poi accettata all'unanimità. David Sassoli ha mostrato sempre vicinanza e sostegno alle iniziative della Toscana nel maggio dello scorso anno del 2021, un'occasione della passata edizione della Festa dell'Europa, aveva aperto la seduta solenne del Consiglio regionale con un videomessaggio. Già comunque il 30 novembre del 2020 era intervenuto anche in quell'occasione con un contributo video alla seduta solenne della Festa della Toscana. E allora, prima di ascoltare e vedere le immagini dell'inaugurazione, rivediamo il videomessaggio di David Sassoli che aprì così la seduta solenne del Consiglio regionale, l'11 maggio 2021. Gentile presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, caro presidente Eugenio Gianni, caro presidente Francesco Gazzetti, amiche, consiglieri, vi ringrazio per il vostro invito. Purtroppo in questo momento non è possibile incontrarci, ma desidero rivolgere un caloroso saluto a tutti, congratularmi con la Commissione Europa del Consiglio regionale per aver promosso e organizzato questa seduta solenne. Il 9 maggio rappresenta per ciascuno di noi, cittadini d'Europa, la celebrazione di un percorso di integrazione, di prosperità, di pace, che ci ha accompagnato per oltre 70 anni. Mai, come in questo momento risuonano attuali le parole in particolare di Robert Schumann, quando nel 1950 aprì la sua celebre dichiarazione, gli scrisse l'Europa non potrà farsi in una sola volta, ne sarà costruita tutta insieme, ma si farà attraverso realizzazioni concrete, creando prima di tutto una solidarietà di fatto. La forza di quelle parole, attraversa la nostra storia comune, ci indica la strada che dobbiamo percorrere. Anche quest'anno la ricorrenza della Festa dell'Europa coincide con un momento davvero complesso per le nostre comunità. Per l'Unione Europea e per il mondo la drammatica crisi del Covid è stata un vero e proprio spartiacque e lo sarà anche in futuro, perché è un evento devastante, inatteso. Il virus è riuscito a mettere in evidenza le contraddizioni di un mondo globale senza regole, che specialmente negli ultimi vent'anni non ha fatto altro che produrre fratture, disuguaglianze nel nostro corpo sociale. Tutto ciò ci pone dei grandi interrogativi, come cittadini, come decisori politici. La risposta è che non possiamo tornare al mondo di prima. Mi rivolgo soprattutto ai giovani studenti che sono collegati, che saluto. La pandemia non può essere una parentesi, ma deve essere considerata un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro più giusto, con meno disuguaglianze. Non si tratta di recuperare le ricette del passato, ma di leggere con lenti diverse le sfide della contemporaneità. Non dobbiamo avere paura della complessità. E non è più accettabile un'economia senza morale, uno sviluppo senza giustizia, una crescita a scapito delle generazioni future. In questo senso il Recovery Fund e il Next Generation EU rappresentano non solo la risposta europea alla pandemia e agli effetti che ha prodotto, ma anche una grande opportunità per realizzare nuovi modelli capaci di conciliare crescita e sostenibilità. E in questo momento storico è fondamentale agire insieme, proteggere la nostra coesione sociale, incoraggiare un'Europa a discutere, a fare politica, a cercare convergenze, vuol dire rafforzare la nostra democrazia e rendere i cittadini protagonisti di questa grande e straordinaria comunità. La politica non può essere per pochi. E in questo senso credo che la conferenza sul futuro dell'Europa rappresenti davvero una valida occasione per stimolare, coinvolgere le nostre opinioni pubbliche. La democrazia si basa sulla partecipazione e noi dobbiamo recuperarla a tutti i livelli. Questa iniziativa si sostanzia attraverso la partecipazione diretta delle istituzioni nazionali e locali, della società civile, dei giovani, delle università, delle imprese, del mondo del lavoro. E vuole essere un momento di ascolto, ma anche di elaborazione di idee. Il destino dell'Europa è nelle nostre mani, oggi più che mai, perché dobbiamo affrontare tante sfide che la contemporaneità ci mette davanti. E per affrontarle c'è bisogno del contributo di tutti e credo che la Toscana non solo farà la sua parte, ma saprà offrire a tutti un esempio di come vivere, di come interpretare le sfide di questo tempo. Con questo augurio vi saluto, vi auguro buon lavoro. Naturalmente spero, passata la pandemia, di potervi incontrare di persona. Buona festa dell'Europa! Toccanti le parole di David Sassoli che abbiamo riascoltato, adesso ci emozioniamo vedendo proprio il momento dell'inaugurazione del Media Center. Io sono straordinariamente colpito da David Sassoli, perché è una persona di cui ricordo la chiacchierata pochi mesi prima che morisse, che facevamo proprio qua a Firenze, quanto sentiva la sua fiorentinità e la sua toscanità, perché poi nell'adolescenza erano stati soprattutto i parenti a Prato a fare per lui punto di riferimento. Quindi da un lato questo senso di identità toscana molto marcato e per noi di grande piacere, ma dall'altro il respiro di un uomo d'Europa, del mondo, il respiro di un uomo che prima da giornalista, poi nel ruolo fondamentale di parlamentare e poi di presidente del Parlamento europeo ha saputo svolgere un'azione che è quella progressista di attenzione a tutti i valori di libertà, di democrazia, di solidarietà, di giustizia sociale, di equità che ispirano l'Europa che vogliamo. Dedicare questo spazio a David Sassoli vuol dire dedicare uno spazio ad un grande giornalista, ad un grande uomo delle istituzioni, ad un grande politico e dedicare il nuovo media center, il luogo in cui noi vogliamo avvicinarci attraverso la comunicazione ai cittadini e cittadine della Toscana è secondo me un modo bello e importante per sottolineare anche i valori dell'Europa, la necessità di essere vicino sempre alle persone più in difficoltà, di dare un sostegno anche ai ragazzi più giovani. Sassoli guardava sempre con speranza e ottimismo e diceva che l'Europa doveva essere sempre più casa loro e allora insieme alla Commissione Europa, insieme al lavoro del Presidente Gazzetti abbiamo messo a disposizione tre borse di studio per premiare i migliori progetti che riguardano proprio il ruolo che può avere anche la Toscana in Europa. Una giornata bella, una giornata emozionante, una giornata che segnerà un pezzo di storia alla nostra regione. Sì, è una giornata dove si contrastano diversi anche sentimenti perché chi ha visto anche il video introduttivo si è emozionato, io mi sono emozionato, non mi vergogno a dirlo, e soprattutto a evidenziare il legame forte che c'era con David, ma non soltanto come uomo politico, io come voi sono un giornalista e quindi David ha rappresentato una personalità che ha saputo entrare nelle case degli italiani, come si suol dire, per portare elementi di conoscenza e di valutazione sui grandi fatti che accadevano nelle nostre comunità. Poi ha scelto la strada di mettersi al servizio delle istituzioni e è arrivato al vertice delle istituzioni europee facendo il Presidente del Parlamento ed è un uomo che è sempre stato un uomo del dialogo senza fare mai sconti rispetto alle proprie idee, quindi è una persona che francamente ha fatto molto, molto bene in tanti passaggi. Adesso c'è un luogo fisico, è un luogo che sarà a disposizione, come ha ricordato il Presidente Mazzello, che ringrazio moltissimo per il supporto a tutte queste iniziative, e che sarà a disposizione di tutti i gruppi e ovviamente di tutti gli operatori dell'informazione. E questo è frutto, insieme al bando che abbiamo presentato per un premio di laurea intitolato anche questo alla memoria di Davide Sassoli, anche del lavoro che stiamo facendo congiuntamente e trasversalmente all'interno della Commissione delle politiche europee del nostro Consiglio regionale, a cui va il mio ringraziamento nelle persone di tutti i suoi componenti a partire dall'Ufficio di Presidenza con i Vice Presidenti Giovanni Galli e Anna Paris. L'Europa siede al tavolo del Consiglio regionale della Toscana. Per la prima volta in una giornata tutta dedicata all'Unione, apre le porte ai Presidenti delle Commissioni per le politiche europee di tutte le assemblee legislative d'Italia. Prima di iniziare la seduta, il Presidente ha consegnato a Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, e delegato per il coordinamento per le politiche europee della conferenza delle assemblee legislative regionali, il Pegaso della Toscana. Mentre agli altri presenti, tra cui Antonio Parenti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea, e Vasco Alves Cordeiro, Presidente del Comitato europeo delle regioni, il Gagliardetto del Consiglio regionale. È un momento di confronto, è un momento che con grande soddisfazione, e ringrazio il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo, per tutto il supporto e l'appoggio, anche offerto all'attività della Commissione, della nostra Commissione regionale, per la prima volta vede la Toscana ospitare questo importante momento di confronto. È molto bello e significativo che siano arrivate persone da tutta Italia, questo conferma anche dell'importanza dell'affrontare i temi, sia dell'analisi dei risultati della conferenza sul futuro dell'Europa, ma anche di come si suol dire adesso, in questo periodo, come si mettono a terra poi anche quelle questioni. È chiaro che siamo molto orgogliosi di ospitare questo coordinamento, guidato dal Presidente Zanin, che ringrazio così come ringraziamo tutti coloro che anche in questo caldissimo fine luglio hanno deciso di accettare il nostro invito e sono venuti a Firenze, sono molti e dimostra anche questa bella volontà di fare rete, che credo sia una cosa importante, non soltanto per le questioni legate all'Europa. Permettetemi di dire grazie a Francesco Gazzetti per un lavoro importante, aver portato qui in Toscana questo momento di incontro su come rilanciare l'Europa, in un tempo difficile in cui abbiamo la guerra alle porte dell'Europa, in un momento in cui c'è necessità di costruire le condizioni per un rilancio socio-economico del nostro territorio. Serve lavorare tutti insieme, serve che ognuno di noi faccia la sua parte, convinti che solo con più Europa si può costruire un futuro migliore per i nostri figli. E quindi abbiamo rivissuto insieme questo venerdì 22 luglio, molto importante, anche perché poi la sala dalla quale vi stiamo parlando, il Media Center del Consiglio regionale della Toscana, verrà utilizzato spesso proprio per le conferenze stampa. Noi ci fermiamo per la pausa estiva, torneremo a settembre sempre con la massima attenzione ai lavori del Consiglio regionale e quindi vi aspettiamo sempre qua, dentro il Consiglio.